Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa rosa, in cui il tema principale è il rimpianto e la possibilità di rivivere un passato per esplorare strade alternative. Il messaggio esplora la potenza delle scelte non fatte e la magia che può scaturire da una seconda occasione. Ma anche le difficoltà che emergono quando si cerca di cambiare il corso degli eventi. In particolare, il racconto invita a riflettere su come un singolo momento possa cambiare una vita intera, e su come le nostre aspettative, confrontate con la realtà, possano influenzare la nostra felicità. La lettura è un invito a esplorare il concetto di destino e le potenzialità nascoste in ogni incontro e in ogni decisione che prendiamo. La trama del libro What is in a Kiss? Cosa c'è in un bacio? della scrittrice Lauren Kate, pubblicato dalla casa editrice Leggereditore, è la seguente. Non è così che Liv avrebbe voluto rivedere Jake Glasswell per la prima volta in dieci anni. Un tempo suo rivale al liceo e accompagnatore al ballo di fine anno, dove l'ha umiliata, è ora un personaggio televisivo di successo e più attraente di quanto abbia il diritto di essere. A partire da quel bacio che non c'è mai stato, la vita di Liv non è andata secondo i piani. Ha rinunciato alla Juilliard per stare con la madre durante un momento di crisi. E ora giura di essere contenta lavorando come insegnante di teatro e uscendo con uomini esclusivamente per incontri occasionali. Questo fine settimana è la damigella d'onore della sua migliore amica, Masha, e naturalmente Jake è il testimone. Ma quando Liv lo guarda negli occhi mentre Masha dice lo voglio. L'universo si ribalta e Liv si trova improvvisamente a vivere una versione della sua vita in cui la notte del ballo ha segnato l'inizio della storia fra lei e Jake, non la fine. E dove lui è la sua anima gemella. Il problema? Sua madre e la sua migliore amica la odiano. Cosa c'è in un bacio? Forse, l'inizio di tutto. Un accattivante romance enemies to lovers che si basa sul concetto di cosa sarebbe successo se. E racconta la storia di un bacio negato e della magica possibilità per una donna di vivere una vita diversa. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.